Ciao Smarties! Oggi andiamo a risolvere il gioco del 15, un simbolo della mia generazione di vecchi. Benissimo, in questo gioco dobbiamo ordinare i numeri dall'1 al 15, lasciando questo spazio in basso a destra. E vado a far vedere quale. Questo spazio vuoto. Se avete il giochino fisico, questo che vi sto mostrando, metteteci un po' di olio se ha preso polvere per troppo tempo. Magari nella cella vuota in un'altra, fate scorrere. Poi giocate un pochino e vedrete che i cubetti iniziano a scorrere, i quadratini. Altrimenti è molto difficile muoverli all'inizio. Questo è un gioco veramente vecchio, l'ho trovato in un cassetto e adesso andiamo a risolverlo. Abbasso la videocamera, scusate le spalle, spero di inquadrare bene il gioco. Lui è il protagonista di oggi. Allora, bisogna ordinare i numeri partendo dall'1. Ecco, abbiamo già l'1 e il 2 in posizione. Dobbiamo prendere i 3 e il 4 e posizionarli qui, vedete? Questa è la zona. Quindi abbasso, tiro su. Elimino quello che non serve. E abbiamo già fatto i primi 5. Ora, il 6 deve andare qui. Quindi facciamo spazio. Fatti qui là. E piazziamo 6 e 7, visto che ci siamo. Ok? Qui abbiamo l'8. Ma l'8 non deve trovarsi in questa posizione. Dobbiamo portarlo dall'altro lato. Il 9 possiamo anche tirarlo su in maniera tale che ce lo troviamo già al suo posto successivamente. Perché più diventate bravi, più avrete la possibilità di saltare passaggina. Quindi qui possiamo ruotare. Piegliamo su. 9, 10 e 11 sono pronti. Quindi mi sono portato un po' avanti con il lavoro. El 12 non c'è. Adesso vi vado a far vedere un trucchetto. In caso in cui mi fossi trovato già al loro posto questi, avrei potuto procedere direttamente all'inserimento del 12. Ma visto che sapevo già che se mi fossi trovato una cosa, un caso del genere, non avrei potuto risolvere il gioco perché i numeri sarebbero stati gli ultimi 3 nell'ordine sbagliato. E' importante capire come fare. Quindi il trucco è andare nell'angolino, posizionare, ecco, 12, 11, 10 e 9 a sinistra e gli altri 3 quadratini restanti a destra. Si ruota in senso orario o anti-orario in maniera tale da avere una sorta di L, cioè 13, 14 e 15. In questa maniera quando andremo a ruotare di nuovo in senso anti-orario, sarà il 13 andrà qui, il 14 qui e il 15 qui. Qualora ad esempio partissimo da, non lo so, questa situazione, avremo 14, 15 e 13, quindi non sarebbe l'ordinario. Dovete soltanto ruotarli, farli girare in un senso o nell'altro in maniera tale da arrivare appunto a questa configurazione. Arrivati a questo punto si va in senso opposto, si continua a ruotare in senso anti-orario per quattro volte e si arriva a fine del gioco. Questo è molto divertente ed è possibile risolvere soltanto alcune configurazioni casuali della griglia. Non è possibile risolvere delle griglie in cui ad esempio dei quadratimi siano scambiati. Qualcuno ha lanciato una sfida giocandosi 5.000 dollari in caso in cui venisse risolta da qualcuno, senza ovviamente barare e staccare i cubetti e attaccarli. E io in realtà ho provato a dare una soluzione nonostante sia matematicamente impossibile. Se siete curiosi guardate il video fino alla fine perché adesso c'è la versione online, risolverò questo e la versione 5x5 per voi. E poi potrete allenarvi allo stesso link o a un altro a giocare voi il gioco del 15 anche se consiglio sempre ragazzi di avere la versione del gioco vero cartaceo. È come far girare un fidget spinner che però non ha elettronico. Ragazzi non è divertente come questo. È passato di moda, questo invece non passa di moda. La mente, i giochi per la mente, fanno sempre bene al cervello. Quindi ragazzi allenate la vostra mente. Cari Smarties, siamo qui per accettare la sfida dei 5.000 dollari. Su questo sito hanno messo in palio 5.000 dollari di premio per chiunque riuscirà a risolvere il gioco del 15. Prima in versione normale premendo scramble e poi in versione più difficile, anzi in realtà impossibile, premendo prima pseudosolve e poi scramble. Quindi direi di iniziare, iniziamo dalla versione classica del gioco del 15. Andiamo a premere scramble e si inizia. Allora vado a piazzare l'uno in alto, in realtà peggio di così non potevamo iniziare. Abbiamo il 2 dalla parte praticamente opposta. Quindi va bene, mando avanti veloce il video e ci sentiamo dopo una volta risolto il gioco del 15 normale. Perché poi avremo a che fare con la versione più complicata, quella in realtà impossibile, che dà diritto ai 5.000 dollari di premio. Ci siamo, abbiamo risolto la versione classica del gioco del 15. Adesso andiamo a risolvere quella impossibile. Almeno ci proviamo. Quindi task 2, pseudosolve e si inizia. Guardate un po' cosa mi sono inventato. I numeri saranno ordinati dall'1 al 15 ma con lo spazio vuoto non in basso a destra ma in alto a sinistra. Altrimenti sarebbe matematicamente irrisolvibile il gioco. Che è quello che spera l'autore di questo sito per non sborsare i 5.000 dollari che ha promesso. Allora vedrete che l'ultima fila sarà composta dai numeri da 12 a 15, poi da 8 a 11, da 4 a 7. E nella prima fila, quella più in alto, i numeri saranno soltanto 1, 2 e 3. La cella in alto a sinistra è vuota, ho finito. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, gli Smarties hanno vinto. 5.000 dollari non ce li daranno mai. Ma almeno un bel like questo video, penso che se lo meriti no? Allora lasciate tanti like se vi piacciono i video intelligenti del Marco Capparetti Channel, il canale intelligente che ti rende più intelligente. E come sempre, un ciao Smarties a tutti dal vostro Marco Ripà.